Vengo da lei per una bussola su quello che sta accadendo, ha sentito i dati che ha fornito Borrelli in diretta, a che punto siamo? Non ho capito bene quanti siano i nuovi casi rispetto a ieri, che è il dato più importante. Se non ho compreso male, intorno a 1600 qualcosa, ecco, perché anche noi l'abbiamo visto in diretta insieme a lei. Vediamo se Elena Petacalvina ce lo può dire in diretta. Sembrerebbero meno di ieri, ma vorrei una conferma. Ecco, Elena Petacalvina, vengo da te per una conferma dei dati, perché abbiamo avuto appunto i dati in diretta. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, quindi ricoverati, terapia intensiva e osservati speciali, sono 1615 cresciuti rispetto alla giornata di ieri. I guariti rispetto a ieri sono cresciuti di 1974, quindi un dato che cresce. Purtroppo ai deceduti c'è sempre una crescita di 575 persone rispetto alle 24 ore fa. Calano il numero dei ricoverati, meno 86 persone negli ospedali. Cala la terapia intensiva, meno 88 persone. E cresce le persone che stanno in osservanza domiciliare pari a 1789. L'incremento nelle 24 ore è di 4... Grazie. Allora, professore, abbiamo sentito il dato. No, no, ma scusi, il dato più importante è l'incremento nelle ultime 24 ore. Ecco, Elena, ce lo stava dando. L'incremento nelle ultime 24 ore. Sono 4.204, giusto? Allora, 204. Questo è l'incremento delle ultime 24 ore. 4.204, professore. Allora, è difficile con questa altalena di dati quotidiani capire dove stiamo andando. Perché? Perché apparentemente siamo oltre i nuovi 4.000 casi, quindi una sostanziale stabilizzazione da quello che mi sembra di capire. Il problema qual è? Che se in questo momento, come avviene da qualche giorno, noi facciamo più tamponi e la percentuale dei tamponi positivi diminuisce, allora va bene, altrimenti queste fluttuazioni quotidiane sono frutto del sistema di notifiche, nel senso oggi si notifica di più, domani di meno, dopo domani di più e allora abbiamo un po' un'altalena. Quello che dobbiamo vedere è il trend in più giorni e questo trend sembra mostrarci una stabilizzazione o una lieve discesa nel numero di nuovi casi, il che può andar bene. Abbiamo una minor pressione sugli ospedali, questo va bene. Abbiamo una minor pressione sulle terapie intensive e questo è un dato positivo. Grazie, professore. Ci aspettiamo di vedere una ulteriore discesa del numero di nuovi casi, come previsto dai modelli matematici e speriamo che nei prossimi giorni si verrà più chiaramente. Grazie davvero, professor Rezza, per questa sua analisi. Ringrazio anche Giovanna Botteri e Elena Petacalbina. Allora, Ella, vengo da te. Sì, grazie Alberto. Noi eravamo in collegamento con Lamporecchio in provincia... Grazie a tutti.